Le Marche tornano in zona gialla, riaprono bar e ristoranti fino alle 18. Riprende domani lo screening scuole sicure, in quarantena 6 classi del Bramante Genga. Controlli anti-covid nel fine settimana elevate 14 nuove sanzioni. Lo Sport vince la Vispesaro, pareggia il pano e perde la Carpegna Prosciutto Basket. Il Bramante Genga Una buona serata anche a chi ci segue in streaming sul nostro sito www.rossinitv.it e chi ci guarda in diretta dalla nostra pagina Facebook. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale parlando del rientro delle Marche a partire da oggi in zona gialla. Tra i cambiamenti previsti rispetto alle due settimane precedenti in zona arancione, la possibilità per bar e ristoranti di poter accogliere nuovamente i clienti all'interno dei propri locali fino alle ore 18. Vediamo come sono andate le riaperture di queste attività in questo primo servizio. Primo febbraio le Marche tornano in zona gialla e questo significa che diverse attività, tra cui bar e ristoranti, da questa mattina hanno potuto riaccogliere i clienti all'interno dei loro locali. Siamo andati a vedere come è andata questa prima giornata di riaperture. Rispetto alle ultime due settimane è andata molto bene, la gente è più contenta e soddisfatta di consumare la colazione, mettersi a sedere, quindi non stare all'aperto, magari anche una forma per non vergognarsi diciamo. Quindi molto meglio di come è stato le ultime due settimane. Speriamo che continui così, insomma, dai. Adesso vediamo nell'orario dell'aperitivo se ugualmente c'è gente, così meglio, molto meglio così. Per noi siamo stati limitati molto dal cinema che è chiuso, soprattutto la sera anche che potevamo fare l'aperitivo, l'asporto della pizza, chiudendo alle sei limita molto l'orario. Noi stiamo aperti dopo avendo altre cose, se tornasse alla normalità sarebbe molto meglio, però bisogna rispettare queste regole. Bellissimo tornare alla realtà, più che giusto perché dà respiro a noi mentalmente, ma soprattutto dà respiro alle attività ed è ora di darglielo questo respiro. Era più che ora direi, da quanto siamo già quasi un anno, quindi speriamo che questo sia un primo passo verso una vita un pochino più libera. Noi ce la metteremo tutta, per rispettare anche tutte le regole. È andata abbastanza bene, c'è movimento, le persone sono contenti finalmente di stare a sedere dentro il bar. Bene, non ci possiamo lamentare. Risposta positiva quindi anche da parte della clientela, c'era voglia di tornare al bar e a consumare? Moltissima voglia, c'è moltissima voglia delle persone di tornare alla normalità, tantissima. Per quanto riguarda le misure di sicurezza invece? Sì, 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 rispettiamo tutto, anche i clienti sono bravissimi, si comportano bene, mascherine, tutto, sì. E per la settimana, anche con il primo fine settimana di rientro in zona gialla, che aspettative ci sono, come vi immaginate? Eh, cominciano già a prenotare i tavolini, quindi buone. Buone aspettative? Sì, sì, sì. Già nel weekend abbiamo le prenotazioni. Abbiamo già prenotato anche per domenica ieri, ma dopo era arancione, però no dai, ci sono parecchie prenotazioni. L'interesse a tornare al ristorante c'è, quindi le prospettive sono buone. Adesso l'importante è che la gente sa che siamo aperti, che possono frequentarci, soprattutto a pranzo, anche se non aprire la sera penalizza molto e poi penalizzerebbe molto anche se il fatto, se poi sabato e domenica si studiano che dobbiamo stare chiusi, diventerebbe un problema. Adesso diciamo che tutti questi stop and go, apri e chiudi, apri e chiudi, non è facile né organizzarsi né poi dare un servizio continuativo anche alla gente, perché crea confusione. Qualcuno ancora chiama se possono venire a mangiare o meno, come chiamavano, domenica se eravamo aperti o no. Quindi si è creata molta confusione e speriamo che adesso per 15 giorni noi possiamo rimanere aperti e fare il nostro lavoro. La gente sa che se vuole a pranzo molti sono aperti, molti saranno chiusi, si apriranno solo a fine settimana perché non ritengono opportuno aprire, soprattutto se si è nell'entraterra. Tra i titolari di bar e ristoranti però non è stata uniforme la scelta di riaprire le proprie attività già a partire da questa mattina. Diversi infatti i locali che per il momento rimangono chiusi, tra cui il ristorante Il Falco, come racconta il titolare Graziano Sartini. Questo per noi era un periodo di ferie, quindi dal primo di gennaio a metà marzo eravamo comunque chiusi. Quest'anno poteva andare diversamente, cioè se c'era una situazione più chiara io avrei sicuramente riaperto, non dico subito, ma già a metà febbraio per il carnevale. Però la situazione adesso in questo momento sì, c'è in zona gialla, però vedendo anche quello che succede nelle grandi città, ma anche da noi, penso che io quando passo in via Caurvedo ho tanta gente senza mascherina, tanti ragazzi che sì, la situazione è più tranquilla, però non è detto che nel giro di qualche settimana si torni in zona arancione, ti fanno richiudere tutto, cioè non c'è una continuità, purtroppo la continuità è nemica del lavoro. A me, dico la verità, mi piace per i dipendenti perché sono a casa e come d'altronde sono a casa anch'io, quindi c'è un mancato guadagno per me, un mancato guadagno per loro, però in queste condizioni mi sembra per me assurdo riaprire. Io ho fatto un ragionamento, adesso c'è i 15 giorni di giallo, poi dopo, i prossimi 15 giorni dopo il giallo saranno fondamentali, perché se dopo questi 15 giorni di giallo il contagio non risale o risale poco, tu hai altri 15 giorni per vedere la situazione, quindi io penso che per i primi di marzo hai già un'idea di come potrà essere la situazione, se la situazione è in calo, nel senso che ci sono meno contagi o si può pensare di riaprire tranquillamente, spero almeno. E nel corso dell'ultimo weekend sono stati effettuati 873 controlli sull'osservanza delle misure di contenimento anti-Covid, 14 le violazioni accertate a cui sono seguite le relative multe. Sempre nell'ultimo fine settimana di gennaio è stata elevata una sanzione anche nei confronti di un esercizio commerciale a fronte dei 450 controlli effettuati. In tutto, nel primo mese del 2021 sono state 6 le multe destinate ai titolari degli esercizi commerciali e 4 le chiusure provvisorie dell'attività. Sono 540 invece i trasgressori che ad oggi non hanno ancora pagato le sanzioni ricevute dall'inizio della pandemia. E ora la pagina degli aggiornamenti Covid per quanto riguarda il nostro territorio. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.439 tamponi, 988 nel percorso nuove diagnosi di cui 534 nello screening con percorso antigenico e 451 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 189 con 19 casi in provincia di Pesaro Urbino. 12 decessi segnalati nella serata di ieri dal Servizio Sanità. Una vittima era residente nella provincia pesarese. E parliamo ancora di cronaca perché si è conclusa con due arresti una nuova operazione della Polizia di Pesaro per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. Protagonisti due giovani, un italiano di 19 anni e un cittadino albanese di 18 che sono stati fermati da una volante lungo via Flaminia mentre si stavano recando a Fano, città in cui i due risiedono. Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto all'interno di un borsone due buste che contenevano più di 2 kg di marijuana. E nuova operazione anche della Polizia Stradale di Fano che ha portato al sequestro di due cuccioli di cane rinvenuti privi di microchip durante il controllo di un autocarro con targa rumena effettuato lungo la corsia sud della 14 all'altezza dell'area di parcheggio Metauro Ovest. Gli animali sono risultati essere di età inferiore alle 12 settimane di vita e in buona salute mentre al conducente del mezzo è stata elevata una sanzione di 1.300 euro per aver introdotto gli animali senza microchip e passaporto. E riprenderanno domani le attività di controllo all'interno degli istituti superiori con lo screening Scuole Sicure promosso dal Comune di Pesaro. Circa 2.700 i test effettuati nelle prime due giornate di attività dello screening mentre al Bramante Genga la positività di un docente ha portato alla misura della quarantena per sei classi dell'istituto. Vediamo. Si amplia al personale dei servizi educativi l'operazione Scuole Sicure promossa dall'amministrazione comunale di Pesaro. Mercoledì 3 febbraio dalle 16 alle 17.30 la palestra dell'istituto Bramante Genga ospiterà per lo screening anti-Covid-19 educatrici, insegnanti, ausiliari e cuochi che lavorano nei nidi e nelle scuole di infanzia comunali. Per studenti, professori e personale scolastico delle scuole superiori lo screening proseguirà invece domani e dopodomani. Martedì 2 febbraio i test sono in programma al Campus, al Santa Marta e al Mengaroni mentre mercoledì 3 al Campus, al Cecchi e al Mengaroni. I numeri registrati nelle prime due giornate di attività parlano di quasi 2.700 test effettuati con l'individuazione di sei casi positivi tra alunni, docenti e personale scolastico. Tra questi, un professore del Bramante Genga. Per sei classi dell'istituto è quindi scattata la quarantena di 14 giorni. Abbiamo avuto questa situazione che direi che da un lato, certamente, sei classi tutti in un colpo in quarantena fa un certo effetto, però dall'altro questo dimostra che questa prevenzione ha un significato molto ben preciso. In fondo, ripeto, un solo docente, perché è un solo docente, e che però ci mette nelle condizioni di tutelare e di seguire il percorso di questi ragazzi che in qualche modo hanno avuto contatto in questi giorni con i docenti in questione. Io credo che sia anche qui un fatto positivo, vuol dire che funziona anche da questo punto di vista il tracciamento. Per quanto riguarda il mio istituto, diciamo, c'è stata un'affluenza di oltre il 50%, con tanti anche docenti e persone alleate che poi si sono invece rivolti il pomeriggio del giorno prima qua allo scientifico, al Marconi. E adesso, tra l'altro, a seguito anche di quello che si sta verificando, per la giornata di mercoledì, dove ci sarà la seconda tornata, abbiamo avuto una richiesta proprio ulteriore di ragazzi che non si erano sottoposti in prima giornata a questo screening e che invece appunto chiedono di poterlo effettuare. Il Dipartimento ci ha dato questa indicazione. Allora, se la positività riguarda un asintomatico, allora la classe viene messa in via prudenziale, diciamo, in DAD, in attesa poi di un'eventuale conferma da parte del tampone molecolare. Se invece la persona è già asintomatica, allora si parte già con una quarantena preventiva, in attesa sempre appunto poi di conferma e di eventuale tampone per i ragazzi che appunto poi si dovranno sottoporre al termine dei 10 giorni, oppure se non si sottopongono al tampone molecolare, la quarantena dura 14 giorni. Questo è quanto ci ha indicato il Dipartimento di Prevenzione. Ed è terminato ieri lo screening di massa nell'area Vasta 1, iniziato lo scorso 18 dicembre. L'iniziativa, promossa dalla Giunta regionale delle Marche, si è sviluppata nei 51 comuni della provincia di Pesaro e Urbino. L'affluenza ha superato le 61 mila persone, di cui 431 sono risultate positive al virus, pari a circa lo 0,7% dei soggetti testati. Il direttore dell'area Vasta 1, Romeo Magnoni, ha ringraziato tutto il personale impegnato per il grande lavoro svolto in queste settimane. E a partire da oggi, con il rientro in zona gialla, riaprono anche i musei. A Pesaro attendono quindi i visitatori, i musei civici, il Museo Nazionale Rossini e Casa Rossini. L'accesso ai tre poli è consentito dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Anche il Confcommercio di Pesaro e Urbino, insieme ai comuni di Fossombrone, Mondavio e Pergola, ha deciso di riaprire i tesori dell'itinerario della bellezza. Da oggi saranno nuovamente visitabili, ad eccezione del weekend, la Quadreria Cesarini, la Pinacoteca, il Museo Archeologico e la Chiesa di San Filippo a Fossombrone, la Rocca Roveresca e la Pinacoteca di Mondavio, il Museo dei Bronzi Dorati e della città di Pergola. E sono invece davvero preoccupanti i numeri della crisi economica marchigiana generata dal Covid. Nel 2020, a fronte di 6.749 iscrizioni e 7.734 cancellazioni, il sistema Marche ha perso 985 attività produttive. Numeri che evidenziano, come sottolineato da Graziano Sabatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario compartigianato Ancona-Pesaro-Urbino, la necessità di mettere in campo regole chiare per permettere la continuità del lavoro e la sopravvivenza delle piccole imprese del territorio. E attraverso un video caricato sul suo profilo Facebook, il ristoratore e imprenditore pesarese Umberto Carriera ha annunciato che da mercoledì, insieme agli altri membri del direttivo IoApro, sarà a Roma davanti a Palazzo Montecitorio con un presidio permanente in tenda. Obiettivo dell'iniziativa? La riapertura serale dei ristoranti e la ripresa delle altre attività economiche, a partire dal prossimo 14 febbraio. E Gabice Mare sarà il primo comune della regione Marche che entrerà a far parte del progetto Arte a Scuola, grazie al quale saranno esposti 100 scatti del grande fotografo Steve McCurry, nelle tre scuole Case Badioli, Dolce Colle e nella scuola Media. Sentiamo qualche dettaglio nelle interviste realizzate da Andrea Sabatini. È un piacere, un giorno speciale per Gabice Mare, perché comunque rappresenta l'inaugurazione, seppur in un periodo di limitazioni Covid, di una mostra importante, una mostra permanente, che presenterà alla città di Gabice Mare dei quadri, più che altro sono delle foto di Steve McCurry, quindi conosciamo la caratura di Steve McCurry come uno dei migliori fotografi a livello mondiale, che attraverso la Fondazione Besharat ci ha dato la possibilità di poter esporre in modo permanente queste foto, questi scatti a Gabice Mare. Quando ci è stata proposta questa iniziativa mi è persa un'opportunità incredibile, perché noi a scuola dobbiamo continuamente cercare di sviluppare nei nostri bambini il senso del rispetto verso le diversità e l'empatia verso tutti. E questa è una possibilità unica, perché con questi scatti bellissimi il fotografo Steve McCurry vuole farci conoscere quelle che sono le diverse realtà, le diverse etnie di tutto il mondo, vuole proprio far nascere in ciascuno di noi non solo il rispetto, ma anche la condivisione di quelli che sono i sentimenti degli altri popoli, di persone che si trovano a una grande distanza da noi, che vivono realtà completamente diverse. È un progetto che vorrebbe sensibilizzare quello che sarà la popolazione di questo mondo di domani attraverso delle sollecitazioni che possono essere l'empatia e lo sguardo verso il nostro prossimo e in futuro poi con altre fotografie che verranno comunque sempre date dalla fondazione, anche altre argomentazioni molto importanti tipo il cambiamento climatico, la natura, la sensibilizzazione verso quello che è il nostro pianeta e la nostra vita, insomma, futura, perché si sta un po' perdendo di vista quello che sono le cose più importanti, cioè salvaguardare quello che abbiamo. Le immagini sono già state esposte, io ho già consultato tutti i miei docenti, abbiamo fatto una breve riunione per sapere come sarebbero entrate queste immagini, queste opportunità, nel loro curriculum. Penso di fare ancora di più, dato che è l'unica scuola del territorio, penso di fare di più, che mi veniremo a fare un allestimento particolare in tutti e tre plessi, ottimizzando ancora il risultato che adesso già è elevato e vorrei invitare verso fine anno scolastico, dove i tempi ci consentiranno di avere tutto aperto e tutto arreggiato, i docenti delle scuole secondarie, sia di primo grado che di secondo grado, sia del pesavese che del viminese. Questa è un'operazione che vuole diffondere il senso del bello e portare questo gusto artistico anche a contatto dei bambini. L'operazione non è un'operazione con altri scopi, scopi politici e religiosi, ma solamente un'operazione per la diffusione dell'arte e abituare anche i giovani a vedere le cose sotto un altro punto di vista, sotto altre inquadrature e anche a vedere cosa succede nel mondo per un discorso di pace anche nel mondo. Non ha niente, ci tengo a sottolineare, niente di politico, niente di religioso, ma solamente diffusione dell'arte. E ora apriamo la pagina sportiva del nostro telegiornale e come ogni lunedì parliamo dei risultati dei match del fine settimana delle squadre del nostro territorio. Li scopriamo nel prossimo servizio. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Sono questi i risultati dei match sportivi affrontati dalle squadre locali nell'ultimo fine settimana. Partendo dal calcio, sabato la Vispesero ha potuto esultare grazie alla vittoria allo Stadio Benelli contro il Modena per 1-0. Decisiva la rete di Manuel Di Paola. Venivamo comunque da quattro sconfitte consecutive. Il momento non era dei migliori. Oggi affrontavamo la diciottesima. Come detto ai colleghi di Modena, affrontavamo la diciottesima finale, una delle diciottesime finali che abbiamo da qui alla fine. Quindi siamo molto contenti. Io veramente sento di fare i complimenti alla squadra e all'allenatore perché comunque hanno fatto una prova di grande carattere in una settimana comunque dove non era semplice lavorare. Vuoi per il calcio mercato, vuoi per la situazione comunque dove ci siamo trovati. Non ne siamo usciti, siamo con i piedi per terra. Ripeto, oggi abbiamo affrontato la seconda squadra in classifica e penso che comunque i ragazzi hanno dimostrato veramente una prova di grande carattere e siamo riusciti a perfurare la miglior difesa del campionato e siamo riusciti a non subire gol. Pareggia 1-1 invece l'Alma Juventus-Pano che torna a casa dall'incontro contro il Padova con un punto in più in classifica. Una partita molto difficile per noi. Eravamo passati in vantaggio e chiaro poi la qualità del Padova si è fatta anche sentire in campo però credo che i ragazzi anche oggi abbiano fatto una grande prestazione e quindi niente, il percorso è questo. Dobbiamo continuare su questa strada. Bene davanti Ferrara che ha servito un bellissimo assist a Barbuti. Sì sì ma penso che tutti hanno fatto bene oggi abbiamo avuto un po' di problemini due aciacchi purtroppo abbiamo dovuto fare due cambi per infortunio speriamo non siano niente di grave. Spazio anche al basket e alla Carpegna Prosciutto-Pesaro che dopo aver lottato per 40 minuti nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A non riesce a conquistare i due punti della vittoria. Il match della Vitri Frigo Arena va alla Humana Reier Venezia con il risultato finale di 65 a 78. Loro sono molto più freschi rispetto all'inizio dell'anno perché senza coppe con panchina molto lunga possono giocare con una intensità straordinaria tutti quanti 40 minuti ma non possono essere scuse questo perché onestamente io non sono stato soddisfatto come abbiamo fatto primo tempo siamo stati più due facendo tantissimi errori e senza fluidità il nostro attacco che quest'anno faceva differenza tante partite oggi non abbiamo fatto tirando malissimo percentuali sono stati bassi per due per tre sotto 20% è difficile vincere la partita contro un avversario forte come Venezia 60-50 cosa è successo abbiamo subito in un break loro in non lo so 10-0 in un minuto e onestamente la siamo fermati completamente non solo in difesa in attacco uguale non girava la pala tiri aperti non sono andati dentro e dopo qualche forzatura come insolito quando non va a tiro da tre e tutto è andato male posso solo fare complimenti loro per la vittoria e tutto è qua a livello regionale invece grande gioia per la Lube Volley la squadra di Civitanova ha conquistato ieri la sua settima Coppa Italia battendo il Perugia alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e per gli appassionati di sport e di moto questo è stato una fine settimana davvero importante infatti da sabato Pesaro terra di piloti e motori ospita un nuovo spazio dedicato alle due ruote lo stor Yamaha un sabato mattina speciale veniamo a scoprire il taglio del nastro di questo nuovissimo Yamaha Store che sbarca nella nostra città e andiamo a conoscere i protagonisti di questa avventura commerciale che onora sicuramente la terra dei piloti a tutti gli effetti è una concessionaria con tutti i servizi dalla vendita al post vendita dove il cliente può trovare tutto quello che riguarda il mondo Yamaha siamo molto contenti di essere approdati a Pesaro perché la riteniamo un po' diciamo la patria del motociclismo dove la gente vive il concetto della moto e vediamo che il pubblico che ci viene a visitare è molto molto euforico nel vedere come diciamo ci approcciamo al mondo moto per noi il filo conduttore è cercare la completa soddisfazione del cliente e di seguirlo durante tutto il suo processo di acquisto cioè dall'acquisto fino all'assistenza a 360 gradi su tutto quello che è il suo tutto quello che è il suo modo di vivere la moto siamo molto orgogliosi di arrivare qui a Pesaro il nostro gruppo dopo la prima apertura a Carpi nella concessionaria ovviamente ufficiale monomandataria Yamaha è arrivato il secondo punto vendita a Rimini e oggi arriviamo nella terra dei piloti e quindi a Pesaro e ci fa molto piacere portare il nostro brand Yamaha e il nostro marchio 10G Motorsport anche nel vostro territorio Oscar Tasso è anche un designer abbiamo notato la firma nella speciale realizzata per Vasco Rossi è una soddisfazione particolare questa di fare degli allestimenti curare e disegnare degli allestimenti speciali per clienti così particolari sì è stata una grossa soddisfazione per tutti noi siamo riusciti nel 2019 a progettare e realizzare la 9 che poi è andata a Vasco e successivamente abbiamo realizzato in seguito di un mio progetto su 3 sarà anche l'847R che è anche quella una degli esemplari è andata a Vasco e sempre rimanendo nel discorso di moto speciali ovvero di prototipi questo gruppo ha realizzato anche la 7 che si può vedere esposta all'interno del nostro store qui di Pesaro è un progetto realizzato per Yamaha Europe che ha partecipato all'IRBuild nel 2019 quindi sono grosse soddisfazioni anche queste per il nostro gruppo effettivamente tagliamo il nastro oggi però è già qualche giorno che teniamo aperte le porte e i pesaresi vedo che sono molto entusiasti avevano bisogno di una probabilmente di una sede così qui terra dei motori e quindi ho visto un traffico positivo insomma di persone dei pesaresi amanti delle moto e per il momento io penso una buona sensazione insomma di questa prima settimana sicuramente tanta curiosità soprattutto per il fatto che il negozio è allestito come se fosse uno showroom sostanzialmente con questi spazi molto grandi qualcuno avanza anche qualche tentativo di approccio commerciale c'è qualcuno che già vuol comprare? sì già ci sono i primi che stanno girando anche perché a breve arriveranno le novità 2021 c'è molta attesa la Tracer 9 le MT-09 le MT-07 e quindi già passano per sapere quando arriveranno in concessionaria tra l'altro le avremo qui in anteprima il 2 di febbraio quindi il 2 tutto il giorno saremo aperti anche nella pausa faremo orario continuato e faremo vedere queste novità 2021 oggi per noi e per me è un giorno fantastico e bellissimo approviamo nella terra dei motori in una città fantastica che ci ospita e speriamo di ripagare in pieno la fiducia dataci e speriamo di fare del nostro meglio e di impegnarci e di non deludere la cittadinanza e tutti i motocicisti di Pesaro ringrazio gli investitori di Modena la Yamaha per aver scelto Pesaro e questo luogo e anche tutto il comparto che a Cema ha sistemato in questi anni perché questo è un crocevia fondamentale per la città già da tanti servizi a motociclisti e automobilisti e con questa esposizione diamo un ulteriore spazio a tutti gli appassionati di moto nel nostro territorio sperando che una volta che questo covid se ne sia andato la moto possa ritornare ad essere davvero un grande strumento di libertà e magari un mezzo per scoprire il nostro territorio e la nostra splendida provincia e questa era davvero l'ultima notizia del nostro telegiornale questa sera su Rossini TV a partire dalle 21.15 un nuovo appuntamento con palcoscenico Marche nella puntata di questa sera si parlerà della Basilica di San Decenzio a Pesaro questa sera quindi alle 21.15 e poi a seguire alle 21.30 all'appuntamento con il documentario di Gastone Mazzanti le stelle continueranno a brillare documentario che racconta la città di Pesaro negli anni dal 1935 al 1945 l'appuntamento con informazione torna invece puntuale domani mattina alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini che potrete vedere in replica durante la mattinata anche alle 8.15 alle 11.20 alle 12.30 e poi nel pomeriggio alle 14.00 e alle 18.00 grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV grazie per averci seguito